Hai visto io come è subito spontaneo? Prendiamo qui la panza Se le scappano tutte le scappano Aspetta Ah va, e poi si ci vince Perchè? 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 Avrò problemi con il filmino qui Perchè? Avete spostato la mia cugina La chiesa c'è Brattanziano Lo sai che fece quando si mettevano la cucina vera? Ah va, la fece vede nella chiesa quanto fu? Due ore, due ore e mezza dopo Ma scusami, una bella clientela E poi è uscito In epoca con l'autosciare Invece di riuscire al giallo Mi uscivo ad acciare al giallo Perchè ho riuscito a stare con più Ma la gente ha già dovuto avere dato Ma se si trova Mi chiedevi una cosa Ah mi ci inganna che vuoi fare spettaccia Ma poi non vado a cercare il canale Né solo a Tavio E tutta la famiglia Quando si muovono c'ho l'aiuto di Gesù Cristo C'è un po' un po' un po' un po' E 6 E puoi te Vado in un po' 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 . Il mio padre ti voleva da me una dana o un fiore, ma non c'è niente ed è più bella, ma se ti vende la maniglia mia, è da te e ti vende, e ti vende la mia fia. Graziano, vende a me, c'è il Parco dei Principi. Buono, si vende a Parco dei Principi. Ma ti pensare, io sono una delle poche locale, ma mi ha detto che il papà mi dà, se il papà mi dà, se il papà ti voleva per me, vuole da ala o fiore, ma non c'è niente ed è più bella, ma se ti prende la maniglia mia, pensa a te, ti donna l'assi, all'allergia. Pensa a te, bravo, bravo. Ah, pensa a te, o te, a pensare, hai più stesso? E ci passavo la langogia. E tu pensate, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente.